Sì ragazzi, qua siamo su Roblox e non si scazza, allora, c'è il mio board, una mano, perché sai, io voglio fare il pasticcio, mi piace, faccio da mangi, allora, come fanno questi stai un po' neanche, non c'è un po' neanche, non c'è un po' neanche, non ho sapevo, non c'è un po' neanche che tu ho metto qui mi pare è buono ok, buonoi qui è un muro è una cosa è un uomo è un uomo la pizza sapevo che c'era la pizza, c'era una cosa che mi andavo fuori no vabbè a me ne vado a prendere i materiali dove si vede buoni andiamo poi farò un video su GTA5 che andremo a forza però non ci interessa però siamo su ah scusate superate i 100.000 like no no 90 like va bene e poi un altro video dove sono nella pizzeria di freddi pericoloso vendere soldi 20 euro ma pure non è realistico questo documento io non ho fatto un cazzo che ho combinato non è tanto realistico però quando uno scemo i scemi cantano non è realistico non è realistico non è realistico è realistico è realistico è realistico guarda che paura, all'improvviso la sera all'improvviso di vento ragazzi, non superate, scherzavo, superate i 90 like vi porterò un video bellissimo su Forza Tento e poi su Minecraft Tentania c'è un'ite c'è un'ite di qui d'all'improvviso la un'ite c'è un'ite c'è un'ite ti d'rò a è Non è nulla La sua, la sua, la sua, la sua, la sua Dove alla mia casa? Dove! Voi sapere dove alla mia casa, se non vi è uscala Mi Gio Ma che nome mi hanno messo? Mi Gio Fofo Mi Gio Fofo Mi Gio Fofo Scrivi un commento Mi Gio Mofo Io sono lui E dovevo chiamare Piggio Mi chiamare Piggio Piggio Poi dopo mi chiamo Piggio Invece di Piggio 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 No! Piggio Piggio Angolismo Forse Non capisci, non capisci, non capisci. Vabbè, iniziamo a fare con me. Andiamo. Allora, Giccio Ballo è entrato nel gioco. Allora, una strumenta deve far cacare. E cazzo dice, va? E cazzo dice, non capisci, non capisci. Andiamo, io sto votando per cacare. Ai, ai, ai. Vissi, io lo, mi cazzo ballo è. Allora, dormi, dormi, dormi. A sonno. Benvenuto, cosa vorresti? Parla decente cosa dicono tutti. O ragazzo, tu sembra che sei buono. Potrebbe prenderci un po'. Somma, figlio neanche leggi. Poi ci dico, benvenuti, cosa vuoi questi? Oh, so cosa voglio. Oh, 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 oh. Bel lavoro. Esatto. Bellissimo. Ci puoi toccare? Scusate, ragazzi. Prima che scoppia è compiuta, eh. È muore. Allora. C'è una persona, tu, a 57. Sì, non tante persone. Ma lo sapete che qua qualche volta c'è l'aglio. È di sera tardissimo. Perché non si voleva fare. Cosa fa? Non si voleva fare vedere. Non so. Allora. Va bene. Ragazzi. Beh. Vi saluto. Ci vediamo al prossimo video. Michael out.